Noi siamo venuti già il mese scorso e io ho dichiarato che il Megalotto 3 di completamento della 106 che da Taranto arriverà a Brindisi noi il cantiero lo apriamo il marzo 2020 e io verrò insieme con la ditta non solo ad inaugurare il campo base che sarà i primi di febbraio ma poi ad avviare finalmente il lavoro e vedere le ruspe in azione per costruire e questo è un fatto secondo me importante oggi stiamo continuando a parlare di infrastrutture in una regione che invece ha grandi deficit e devono essere affrontati io da uomo del sud non mollo la questione ANAS che sto facendo davvero correre e tanto ma devo dire che con Simonini con l'amministratore delegato abbiamo trovato davvero un'intesa eccezionale perché la Calabria ha bisogno di risposte concrete e di risposte vere oggi abbiamo analizzato la strada del Medio Savuto che ha un nome incredibile, la strada che non c'è perché è una strada progettata ma che non è stata mai realizzata, sembra una presa in giro in un'Italia meridionale che è davvero stata dimenticata e queste sono le risposte che dobbiamo dare, qualcuno dirà non ci crediamo sono le solite passerelle da campagna elettorale noi dopo il 26 di gennaio, dal 27 saremo di nuovo qui insieme con il nuovo presidente della regione ad analizzare quelle che sono le possibilità che sono i problemi ma soprattutto ad analizzare le soluzioni per poter portare la Calabria fuori da quello che è una retratezza diciamo in campo infrastrutturale che non è più accettabile e questo lo dico da uomo del sud quindi senza rischio di offendere qualcuno qui innanzitutto mi pare che se al nord hanno le strade che crollano, qui non c'è più neanche che crollino perché già sono davvero insicure nella loro percorrenza la 106 è davvero una strada terribile, non è accettabile che una strada statale, quindi dello Stato sia in queste condizioni dobbiamo intervenire lì, ci sono tanti soldi in questo momento messi a disposizione per le progettazioni, devono partire immediatamente da lavori quindi dobbiamo tagliare i tempi, una delle richieste che ho fatto al ministro De Micheli ad esempio è che la 106 Ionica fino a Crotone venga inserita nelle opere da commissariare senza lo sblocca cantieri, cioè avere più velocità di intervento secondo me proprio per andare a far vedere ai cittadini di quella parte della Calabria che in questi mesi che ho visitato ho visto che esiste la Calabria e l'altra Calabria, quella che è un attimino ancora più indietro e che questa cosa è inaccettabile ovviamente quindi intervenire lì, poi i treni, l'alta velocità non si può fermare a Salerno, io ho parlato sia con Italo che con RFI cioè con Trenitalia, dobbiamo cominciare a lanciare messaggi positivi, da Reggio Calabria si deve arrivare a Milano e questa cosa con Italo la facciamo a luglio, ad agosto e a settembre con una linea sperimentale che collegherà Reggio Calabria con Milano e con un freccia argento dedicato senza bisogno quindi di cambiare a Roma ma da Reggio Calabria fino a Milano anche Trenitalia mi sta dando le rassicurazioni per creare la terza coppia che si unisce alle altre due che ci sono in questo momento che invece fanno capolinea a Roma. Quindi stiamo cercando di portare la Calabria all'interno di un sistema di anche di alta velocità ferroviaria che è importante. Ci sono chiaramente grandi interventi, un miliardo e tre appunto sulla Ionica, per l'autostrada due miliardi e tre l'intervento invece sulla linea ferroviaria che deve vedere delle velocizzazioni anche lì insomma sono degli interventi importanti che ci danno anche il senso di come questo governo secondo me stia guardando al sud Italia finalmente con grande praticità, con grande attenzione. Le parole di Conte che ha voluto poi in qualche modo nella legge di bilancio affinare rispetto al meridione sono molto importanti perché guardate che molti non se ne sono accorti ma voi che siete giornalisti particolarmente attenti raccontatelo invece. Abbiamo cambiato il paradigma, oggi i fondi per l'investimento non sono per il sud fino al 34%, abbiamo cambiato la parola fino con almeno il 34%, significa che da oggi al meridione si spende almeno il 34% o di più e questa è una cosa che secondo me questo governo ha portato in dote come risultato che in questo momento è solo una norma scritta su un foglio di carta, deve diventare milioni di euro in più per tutte quelle che invece sono le infrastrutture.